Sulla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, prevista dal decreto mezzogiorno del Governo, che ha già stanziato 250 milioni di euro per i viadotti danneggiati, intervengono con due diversi emendamenti le senatrici aquilane Stefania Pezzopane del PD ed Enza Blundo del Movimento 5 Stelle. La Pezzopane chiede di dare la possibilità al concessionario Strada dei Parchi di utilizzare il canone della concessione, oltre 500 milioni di euro, per risanare le infrastrutture viarie senza così pesare sulle tasche dei cittadini. La senatrice Blundo invece, sempre con un emendamento, chiede che parte dei 250 milioni di euro destinati dal Governo alle due autostrade abruzzesi sia anche destinato alla messa in sicurezza del sistema idrico che passa sotto la galleria del traforo del Gran Sasso. La Blundo ne ha discusso a Teramo con le associazioni dei Liberi Cittadini 5 Stelle e Arco Consumatori. Vogliamo che le condutture siano realmente sicure, proprio come struttura, oltre a volere una tranquillità sull'utilizzo dell'acqua che è stata riattivata da parte di quella fonte che proviene dai laboratori del Gran Sasso. Però noi vogliamo che tutta la conduttura sia in sicurezza. Ora non abbiamo chiarezza se le condutture sono isolate davvero, se i fondi che già erano stati stanziati nel 2003 sono stati utilizzati e quindi le canale sono del materiale idoneo di acciaio oppure di polietilene. Ma vogliamo sapere se questi lavori sono stati fatti adeguatamente e se non ci sono stati danni perché non si può escludere che il sisma non abbia creato dei danni. Quindi fondi che vengono stanziati per l'autostrada dei parchi vadano anche per la sicurezza dei cittadini. Intanto la Ruzzoretti S.p.a. rende noto che l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il bilancio annuale 2016 che ha fatto segnare un importante ritorno all'utile, anche se per ora di limitate dimensioni, con un andamento in linea con le previsioni del piano industriale.